Qui siamo ora in Eurospot 1 con Mare e Bautista Agut, Mare che viene dal 2 maratone, non gioca meno di 8 ore, siamo a 2 ore 33, siamo nel terzo set, nel secondo è stato bravissimo Andy Mare a riprendere il manier set recuperando anche il tiebreak in cui era assolto adesso Bautista Agut. Che c'è? Ciao Donora, buongiorno a tutti. Sì effettivamente è sceso un po' il sorriso quando è caduta.